In una strategia elettorale il ruolo dei sondaggi è molto importante. I sondaggi aiutano a conoscere la realtà dell'elettorato, la realtà del territorio, gli scenari possibili che si possono sviluppare e soprattutto non tanto in valore predittivo, ma quanto in possibilità e come la campagna elettorale si può e si potrebbe sviluppare a sua volta. I sondaggi nel tempo hanno avuto per gli uomini politici diverse connotazioni. C'è da dire che se i numeri del sondaggio sono a favore di un politico vengono sempre esaltati, se sono contrari vuol dire che il numero non tanto gli fa piacere. C'è da dire che è cambiata anche la lettura del sondaggio, perché nel momento in cui il sondaggio è arrivato sulla scena politica diciamo che non era preso proprio nel migliore dei modi. Sono stati anche presi in giro parecchie volte. Ultimamente i sondaggi hanno una certa rilevanza. Poi c'è sondaggio e sondaggio, nel senso che quello che spesso viene pubblicato non è il valore della ricerca che sta dietro, perché quella ricerca viene costudita gelosamente e sicuramente apprezzata dal committente.